E' stato presentato questa mattina dal sindaco Massimo Seri assieme all'assessore ai lavori pubblici Fabiola Tonelli il master plan della ciclovia adriatica, un progetto approvato ieri dalla giunta che dona una visione generale del percorso della pista ciclabile e di cui il tracciato, diviso in tre stralci, parte dal confine con Marotta per collegarsi poi con quello di Pesaro. Il primo stralcio, un tratto di 1,2 km che passa nella strada di Ponte Sasso, è già in fase di realizzazione e sarà inaugurato nel mese di maggio. Va dal rio Crinaccio a Viaiozzino sull'Arenile, quindi ci saranno alcuni spostamenti che adesso in accordo anche con i proprietari, i concessionari si andrà a svolgere questo piano particellare per poter poi andare avanti con i lavori. Un tracciato largo 4 metri quindi darà molto valore turistico a questa zona e da Viaiozzino si uscirà verso monte della ferrovia e il tracciato quindi si sposterà una decina di metri dal tracciato ferroviario per poi proseguire verso il Ponte Metauro. Il terzo stralcio appunto parte da Viaiozzino fino al Ponte Metauro incluso. Sul Ponte Metauro, ha proseguito Tonelli, abbiamo lasciato una doppia opzione nell'attesa di capire quale sia la zona migliore dove realizzare il tracciato. Potrebbe passare vicino alla ferrovia oppure alla statale adriatica. Si tratta di uno snodo molto importante perché collega sia il quartiere di Tombaccia che le future ciclovie turistiche sul fiume Metauro. Un'infrastruttura importante per la mobilità leggera, ha aggiunto il sindaco di Fano Massimo Seri e con un grande valore turistico ed urbanistico. E quindi siamo pronti per la seconda fase che è quella della progettazione e innanzitutto quella della fattibilità ma soprattutto pronti per quelle che sono le opportunità da recovery plan che sappiamo che rientrano a pieno titolo sia delle indicazioni regionali ma anche nazionali. Quindi vogliamo farci trovare preparati per quel momento ma è una risposta anche a una strategia complessiva della città. Insomma un altro tassello importante lo abbiamo messo.